Ragazzi, in questo video andiamo a migliorare il tiro al volo di collo. Facciamo un autopassaggio sulla paretina, passiamo dall'altra parte e andiamo ad incrociare di collo-piede il tiro, facendo gol di precisione nella porticina. Poi successivamente possiamo vedere tutto il dettaglio nelle slow motion. Guardate come mi autoalzo la palla, sto direzionato verso la porta, piede d'appoggio che mira l'obiettivo e vado a calciare di precisione nella porticina. Grazie a tutti.